Ciao a tutti da Nicola e Isotta Oggi seconda puntata della serie Le barzellette di Isotta, sigla Ah dai Ah giusto, c'è ragione, la sigla non c'è Non ce l'abbiamo Vai, racconta la barzelletta, vai Leggi Ah giusto, c'è ragione, perché oggi Isotta mi ha preparato un copione Vai, leggo Isotta, perché metti tutti i libri nel frigorifero? Che ha detto la maestra? Di dare una rincrescatina alle materie Ah, carina Il frigo, la rincrescatina Carina, molto carina Fado io? La racconto una? Sì Allora, Isotta, qual è l'uccello più veloce? Il canarino No, perché il canarino? Il cringuello Ma che cringuello? No, è piccione Ma che piccione? Il canariano, non è un canarino No, te lo dico io Sì L'uccello più veloce è L'acquila Hai capito? L'acquila L'anguila, no? No, eh? No Aspetta, te la faccio capire L'uccello più veloce? Sì La La Qui? Qui La La E quindi? E quindi? E quindi sono io Scusa, se prima sta là Eh Poi sta qui Qui? Ma l'uccello più veloce Ah, ok E poi là Sì La, qui, là Eh, ma che uccello è? È l'acquila Ah, coquito Ecco Quindi l'uccello più veloce, eh? Non lo so È l'acquila Perché? Come perché? Scusa, se prima sta là Poi qui Poi là È un gioco di parole Cerca di ragionare con il gioco di parole Ok Ecco La Sì Qui Eh E là E' uguale L'acquila Ok Eh, quindi? L'acquila Bravissima Oh Perché tu non mi fa ride? Ah, ho capito Oh, finalmente Oh, quindi? Quindi L'uccello più veloce, eh? L'acquila Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta Perché? Non ho capito questo Perché, scusa Se si chiama l'acquila Prima sta là Chi? L'acquila Ma non c'è In modo di dire È una sciocchezza, dai Per ridere, dai Cerca di figurartela Ingagino Eh Chi c'è là? Un drago Ma l'acquila Ok, l'acquila Quindi là sta l'acquila Sì Poi sta qui Qui Poi sta là Sì, quindi Me l'ho manchito Ma scusa Eh Sta là Sta là No, scusa Là Là Qui? Qui E poi là E poi là Io non ho i dubbi Mnaggia Ma non ci deve essere Eh Ah, giapponese Ma che è giapponese? L'acquila L'acquila Tojoku Tojoku Tojota Ma che tojoku Ma che stai a dir No È una storiella Scusa L'uccello più veloce È per far ridere No? Per far ridere L'acquila Ok No Solo una cosa Non è chiara Che cosa? Non poteva essere Qui L'acqui No 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 Non poteva essere Qui L'acqui Perché è L'acquila E lì? Che c'è tra lì? Che ne sono io? L'acquila e lì? Eh no Lì L'acquila Laggiù Ma che è laggiù? L'acquila Basta Ci rinuncio Ecco Non le racconta più No 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 raccontarle Ci rinuncio A fartele capire Perché? Perché non ci mette impegno Fai la sciocca Non vuoi capire barzellette Scusa Ma che sono sciocche? Non sono sciocche Sono barzellette normali Sono simpatiche Ecco E tu Non le capisci No no Io le capisco con gli intelligenti No Non le capisco Vabbè Lasciamosa Bene Il nostro video finisce qui Se vi è piaciuto Mettete like Mi raccomando Condividete E iscrivetevi al canale Per avere notizia Di quando pubblicheremo Nuovi video Quindi da Nicola E da Isotta Ciao a tutti 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 Ciao a tutti